Ciao! Oggi questo video è per tutti coloro che amano i giochi da tavolo, meglio se un po' datati. Vi starete chiedendo cosa sia questo? E l'ho volutamente messo così per farvi vedere che anche il sotto, diciamo, è abbastanza rifinito. E poi qui cosa abbiamo? Questo è un tabellone da gioco per due giochi famosissimi, nonché stupendi. Quindi Dangerous and Dragon e Pathfinder. Allora, cosa c'è da dire? Innanzitutto che ho rispettato chiaramente le dimensioni del tabellone originale, così come mi è stato chiesto dal cliente, e poi ho applicato sopra questo plexiglass, vedete così? Uno è più facile da giocare, è più facile anche disegnarci sopra per poi cancellare. E diciamo così riusciamo anche a mantenere queste mattonelline che sono state tagliate una a una, incisa una a una e dipinta una a una, e mantenerle sempre, diciamo, nel loro massimo splendore. Chiaramente adesso non so fare i conti al volo, non mi vengono, però parliamo quasi di 382, 376 tessere, chiamiamole tessere, che poi andranno appunto a fare tutto questo, quello che vedete. Le scritte sono state messe appositamente lateralmente, perché così qua sotto i giocatori e i clienti che si è affinato a me mi ha chiesto proprio di lasciarlo libero, così per mettere tutti gli altri, le altre cose nel gioco. E niente, questa magari è un po' una sorpresa per chi non mi conosce, però profonda passione per i giochi da tavolo, quindi quando mi è stato chiesto non ho proprio assolutamente rifiutato, è una commissione stupenda, e che penso farò presto per me per il nuovo HeroQuest che arriverà. Ciao!